buongiorno a tutti e benvenuti in questo secondo video di questa di questa rubrica chiamiamola così cioè le pagelle di fine anno e lavoro oggi parliamo di under 23 l'under 23 che molti a volte attaccano perché perde partite partite diciamo facili diciamolo quindi ad esempio il pareggio nell'ultima dell'anno contro la pergolettese ma io credo che molti di quelli che parlano non abbiano ben chiaro che cosa sia che cosa sia questo questo torneo cosa vuol dire giocare in serie c perché è veramente a volte vengono vengono criticati molto più di quello che dovrebbero essere criticati cominciamo a dire che la squadra dell'under 23 è una squadra molto giovane sia come nascita di società e questo non è non è una cosa da sottovalutare ma anche della crescita proprio negli uomini perché la juventus under 23 spesso va in campo con un under 20 e quindi che dovevamo dire di questa squadra secondo me si può parlare solo bene perché comunque una squadra che attualmente attualmente è sesta in classifica ha chiuso l'anno scorso con il decimo posto che attualmente ancora il miglior risultato di sempre il campionato perché due anni fa arrivamo decimi poi andammo a giocare i play off i play off nazionali ma semplicemente per il fatto che vincemo la coppa italia coppa italia che ci ha visto sfortunati quest'anno siamo abbiamo beccato una delle squadre più forti non solo del girone ma di tutta la selecice su tirol e ce la siamo giocate in coppa italia più che in campionato quindi siamo stati un po sfortunati nel sorteggio e quindi siamo usciti abbastanza presto anche se siamo arrivati comunque agli ottavi di finale che secondo me resta un bellissimo risultato quindi niente ragazzi la juventus under 23 quest'anno ha veramente fatto vedere delle ottime partite in certi frangenti in altre è stato veramente brutte partite ma ci sta si gioca under 23 gioca veramente contro delle squadre di vecchi marpioni questa cosa non va sottovalutata giocare con squadre esperte tipo il su tirol rischi 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 di prenderle anzi secondo me vedere una juventus under 23 giocarsela così con squadre più forti segno che questi giovani possono far veramente bene la partita che l'under 23 gioca a padova è una signora partita lì si è stati sfortunati se quella partita noi l'avessimo fossimo passato in vantaggio l'avresti vinta per come come è andata la partita non si è passato in vantaggio tu e ti hanno punito perché ci sta anche quello l'esperienza l'esperienza che questi ragazzi dovranno pian piano fare perché dico che conta la squadra giovane anche come età e non solo anche come società e non solo come ragazzi perché comunque una squadra giovane che approccia una categoria così difficile ci vuole un po di tempo prima che cresca come va cresciuto bisogna ridurre il gap di questi ragazzi nel passare dal campionato primavera al campionato under 23 ancora questa cosa è un po difficile però ci stiamo arrivando ci stiamo arrivando io sono sincero credo che l'under 23 stia facendo delle ottime cose ha fatto esordire tanti ragazzi in prima squadra tra l'anno scorso e quest'anno e quest'anno poi ripeto sull'emiretti ci siamo tolti l'enorme soddisfazione di vedere un ragazzo dell'under 23 in nazionale maggiore in argentina che è una cosa pazzesca e aggiungo io che sull'emiretti sono stati decisivi nell'under 19 per fare quello splendido girone di youth league che ha fatto la primavera che ricordiamo è l'unica squadra italiana aiutare di finale di youth league bisogna vedere poi se l'inter e l'empoli la raggiungono intanto la juventus under 19 è l'ultima viene criticata l'under 23 perché ci si aspetta sempre che si vada a vincere tutto e che tutti i fenomeni tutti i ragazzi che giocano l'under 23 devono essere presi e messi in prima squadra non è così non è così credo che chi segue un pochettino l'under 23 o il campionato di serie ci sa che non è così il campionato di serie c è molto difficile è molto più difficile secondo me della serie b è il posto giusto dove far crescere i ragazzi i campi fanno schifo bisogna dire la verità e quindi non dico che ci dobbiamo accontentare ma bisogna avere molta pazienza perché è una squadra di ragazzi se andiamo a vedere anche le altre squadre a livello internazionali tolto il bayern monaco che ha vinto la tre liga tre anni fa due anni fa che però ricordiamo la non possono passare la rimangono in serie c ma che l'anno dopo rischiato la retrocessione altre squadre giocano praticamente tutti in serie c e spesso perdono contro squadre di serie c quindi ragazzi pazienza e basta e basta bisogna avere pazienza con questi ragazzi perché secondo me stanno facendo delle ottime cose e il resto dell'idea resto dell'idea che comunque per una squadra di serie c per una seconda squadra in questo è il quinto anno di vita anzi quarto perché il quarto anno di vita questo qua perché abbiamo giocato 2018-19 il primo anno al quarto anno di vita conta già due partecipazioni playoff e un titolo di vittoria di coppa italia serie c signori secondo me l'anno 20 sta facendo grandi cose obiettivo ricercare di arrivare sesti o settimi saltare un turno dei playoff del girone passare i playoff del girone e andare poi nel tabellone dei playoff nazionali e poi vada come vada non credo che questa squadra possa salire in serie b ma che ci possa dare tante soddisfazioni quello sì lo credo ciao a tutti ragazzi e al prossimo video grazie